Quali sono gli stili di vita corretti? Quali sono gli stili di vita corretti? È un diritto o è un dovere? Ci può illustrare un po', dare un inquadramento un po' anche concettuale sulla promozione degli stili di vita salutari? Il mio è il punto di vista di uno psicologo. Guardo a questo triangolo che fa riferimento a individui, comportamenti e ambienti dal punto di vista dell'individuo. Il che non mi rende meno attento al fatto che un individuo non agisce in uno spazio vuoto, bensì agisce in un ambiente fisico e sociale. Ambiente fisico e sociale che parte con un contrasto chiaro all'idea che alcune vite continuano meno delle altre, semplicemente non riconoscendola. Non riconoscendola perché con chiarezza il tema del festival rimanda sostanzialmente a un'idea chiara, testimoniata, evidente. È assolutamente vero che piangono tutti, piangono anche i ricchi, ma i poveri piangono più spesso. La povertà materiale, le reti d'aiuto, la disoccupazione, il titolo di studio, il lavoro poco qualificato sono fattori A, tutti correlati tra di loro, B, tutti capaci di incidere sulla salute degli individui. Allora il problema degli stili di vita diventa un problema di comportamenti e attenzione, l'individuo è ultima penna del suo comportamento. E' lui che lo scrive il suo comportamento. Sono le persone che fanno delle cose e quando le fanno regolarmente diventano abitudini e quando quelle abitudini sono strutturate diventano stili di vita. Lo stile di vita in altri termini è un comportamento strutturato, ma sono gli individui che mettono in atto un comportamento dentro un tipo di contesto. Allora com'è possibile che quel comportamento sia meno salutare per persone che si collocano in una posizione diversa di una scala di qualificazione sociale dentro una cosa che è talmente tanto strutturata che la chiamiamo legge, la chiamiamo legge del gradiente sociale e che prende delle forme. Vedete quella città lì dietro, i cui passaggi sulle fermate della metropolitana si avvicinano verso il centro e ad ogni fermata della metropolitana qualcuno guadagna anni di vita? Come a dire, vivere in un posto intorno a una fermata della metropolitana più centrale allunga la vita? Non è il Bangladesh, non è Costa Rica, è Torino. Per cui diciamo, come dire, c'è una dimensione di strutturazione e di diseguaglianza in salute che guarda in maniera estremamente vicina. Ieri qualcuno diceva, Marmot diceva, se tu nasci a centinaia di migliaia di chilometri guadagni sette anni di vita. No, anche se nasci a una fermata della metropolitana più in là guadagni anni di vita. Se sei uomo o donna e hai un diverso titolo di studio guadagni anni di vita. E perché diventa la domanda? Perché i comportamenti sono diversi? Beh, diciamo, per varie ragioni. Una prima ragione è perché l'accesso alle cure non è una cosa semplicissima. E il tema complessivo della qualificazione dell'individuo guarda anche all'espertise con cui quell'individuo accede alle cure. Perché l'accesso alle cure non è una cosa semplice. È una cosa che richiede una literacy, una competenza. E questa competenza varia con lo spazio della qualificazione degli individui. Di tanto è vero che l'eccesso di andare incontro a un ricovero evitabile per un laureato è decisamente più basso rispetto a quello che non sia per un individuo meno istruito. E badate bene, questo gap dal 1995 al 2012 cresce. Per cui diciamo, stiamo parlando di cose, ne parlavamo prima, assolutamente ripetute, per certi versi anche un po' ripetitive, ma rispetto alle quali la ripetizione sta nella descrizione, non nella risoluzione. La ripetizione non ci sta aiutando a risolvere il problema dell'accesso alle cure, però diciamo non ci sta aiutando nemmeno a risolvere il problema dell'indicazione dei diversi livelli di comportamento delle persone. Questa è una citazione dal libro da cui prende il titolo questo festival. La diseguaglianza non è solo una questione economica, ma una questione di responsabilità e responsabilizzazione. non è soltanto un problema di accesso alle cure, tanto che anche dove, come in questo paese, esiste un'assistenza sanitaria gratuita e di tipo universale, persistono delle diseguaglianze. Allora il compito della politica è incentivare anche i comportamenti di promozione della salute, comportamenti della promozione della salute che sono altrettanto diseguali. Sono altrettanto diseguali se guardate il livello dello stato ponderale delle persone al nord, al centro e al sud, in riferimento al titolo di studio, lo stato socio-economico, vedete una relazione chiarissima. Se guardate il fumo delle sigarette, vedete una relazione assolutamente altrettanto chiara. Se guardate attività fisica e sana alimentazione, scoprirete che mentre il gap sulla durata della vita, tra meno istruiti e più istruiti, in questo paese è più basso che in altri paesi, il gap tra accesso a comportamenti sani, sana alimentazione e attività fisica, attività motoria, in questo paese il gap, la differenza che c'è tra stato socio-economico, è più alta rispetto ad altri paesi ricchi, come potete vedere in questa diapositiva. Non basta, non è soltanto un problema di individui, ma di trasmissione intergenerazionale di questa questione. Quella con i colori più chiari è la relazione sostanzialmente fra il titolo di studio delle persone e il loro stato ponderale. Quella di sinistra è la relazione tra il titolo di studio dei genitori delle persone e lo stato ponderale dei loro figli. Sono identiche. In altri termini, addirittura c'è una trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze in salute e dei comportamenti. E questo vuol dire che, come dire, mentre i presidi di accesso alle cure in qualche modo funzionano, i presidi di promozione della salute individuale non stanno funzionando. E sono altri, sono certamente altri. Il Servizio Sanitario Nazionale è il presidio di tutela dell'accessibilità alle cure degli individui. Non necessariamente deve assumere da solo il ruolo di presidio di promozione della salute degli stessi individui. Ce ne sono altri. La scuola. Il tema complessivo della promozione della salute riguarda e investe enormemente la scuola per due ragioni. La prima è che, per l'appunto, la scuola fa bene alla salute e la seconda, come vedremo, che anche la salute fa bene alla scuola. Eppure, anche la scuola si comporta. I presidi che dovrebbero fare uguaglianza si comportano in maniera disuguale. Perché, per esempio, l'accessibilità alle mense, che corrisponde sostanzialmente a una dimensione di promozione dei comportamenti alimentari sani, è assolutamente diseguale nella maniera opposta a quella che ci si aspetterebbe in altri termini. La distribuzione del cibo nelle mense scolastiche è minore nelle regioni in cui l'eccesso ponderale è maggiore. Identicamente questo avviene per gli spazi aperti, per i cortili e per le palestre e per la quantità di ore di educazione delle scuole che fanno almeno due ore di attività motoria all'interno dello spazio del paese. Per cui, diciamo, come dire, c'è uno strano livello di comportamento dei presidi di promozione della salute perché tendono a promuoverla laddove ce ne sarebbe meno bisogno. E dicevamo, attenzione, con un circuito di retroazione pericolosissimo, per cui, se per caso abbiamo messo a fuoco l'idea che all'abbandono scolastico si associa a mortalità precoce e a peggiore accesso alle cure, dovremmo anche considerare il fatto che un minore livello di salute si associa predittivamente al più precoce abbandono scolastico, costruendo per l'appunto un circuito di retroazione pericolosissimo. Allora, stili di vita, attività motoria, sedentarietà, dispersione, adattamento scolastico, sovrappeso, obesità, salute e malattie, sono, e lo dicevi correttamente all'interno della tua introduzione, un problema travolta narrato come totalmente legato a una situazione contestuale, talvolta legato a una situazione quasi complessivamente, come dire, legata a una responsabilità del cittadino talmente forte che diventa colpa. E si associa a stigma. Il paradosso bizzarro è che il bambino grasso disuguale, non solo è disuguale perché è svantaggiato da una serie di contesti che promuovono il suo eccesso ponderale, ma è anche stigmatizzato per quell'eccesso ponderale, per cui diciamo diventa due volte disuguale dentro un percorso che o elimina completamente la responsabilità dell'individuo o gli attribuisce colpa. E allora, il problema diventa quello di non escludere il cittadino dal sistema di responsabilità, ma non trasformare quel sistema di responsabilità in colpa. Lo schema che tu mostravi per me si legge all'interno di uno spazio, per me è psicologo, si legge all'interno di uno spazio di sistemi di tre presidi in continua interazione, quello degli individui, quello degli ambienti in cui si inseriscono e quello dei comportamenti che connettono gli individui e i loro ambienti e che interagiscono costantemente. Il tema generale della vulnerabilità è un tema di interazione tra individui e i loro comportamenti. Il tema generale della possibilità di accesso all'esposizione dei fattori di rischio è un tema di interazione tra gli individui e gli ambienti in cui sono inseriti. Allora, la lettura di questo tipo di situazione in una dinamica di determinismo triadico-reciproco, assolutamente moderna, assolutamente tipica dei sistemi intersettoriali, diventa una cosa che però all'interno dello spazio delle pratiche di salute è tanto semplice quanto molto complessa da mettere in atto. Perché una delle cose che vanno considerate è che, come dire, non c'è semplicemente un problema di definire l'individuo è dargli parità di accesso alle opportunità. Perché la parità di accesso alle opportunità non vuol dire avere una porta aperta, vuol dire avere una porta aperta, è un individuo disponibile a entrare dentro quella porta. Oggi noi celebriamo con il nome di questo festival uno dei libri di Marmot, che si chiama per l'appunto La salute disuguale, ma un altro dei libri precedenti di Marmot, dentro una retorica che è molto simile a se stessa e molto consistente, nel corso degli anni si chiamava Status Syndrome e definiva una dimensione di centralità dell'individuo, dove lo scarso controllo, la scarsa percezione dell'autonomia, la scarsa partecipazione definiva una sindrome individuale. Perché sosteneva Marmot, sostiene tuttora, con il cambiamento della posizione dell'individuo a livello di status socio-economico, a livello sistemico cambiano le sue conoscenze, le sue convinzioni, i suoi atteggiamenti, i suoi obiettivi personali, le sue motivazioni, le sue intenzioni, i suoi comportamenti, quindi le sue abitudini, quindi i suoi stili di vita. E agire sui sistemi ambientali o sui sistemi economici, senza agire su tutto questo, significa costruire un sistema monco, perché a leggerla ancora diversamente, anche l'altra parte della cipolla, facendo riferimento a sistemi ancora più vecchi di quella slide sulle determinanti socio-economiche della salute, rimettendola dentro un sistema complesso come quello definito da Brough and Brenner, noi abbiamo dei sistemi politici, dei sistemi di convinzione, dei sistemi normativi, che agiscono e definiscono dei sistemi ambientali, che agiscono e definiscono dei sistemi sociali, che agiscono e definiscono dei sistemi individuali, con degli individui al centro che si comportano in qualche maniera. Il problema è come agire sinergicamente, convintamente, congiuntamente, sistematicamente e contemporaneamente su questi sistemi. Questo richiede un'azione intersettoriale, solo che, se questa soluzione intersettoriale non è diretta, il rischio è che noi si vada esattamente nella stessa conclusione di Marmot, nella prima e nell'ultima pagina del libro, ovvero, continuiamo a remare barche controcorrente, risospinti senza posa nel passato, che era una citazione alla grande Gaspi. Su questo mi fermo. Grazie, Fabio Lucidi, che ricordo è professore presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia alla Sapienza di Roma. Decisamente hai messo tantissima carne al fuoco e hai anche toccato adesso, alla fine, il tema dell'intersettorialità e ci torneremo adesso nel secondo round.